Questa sera è stata l'occasione per presentare ai cittadini di questo territorio, dopo la riapertura del cementificio dei Sarche, un anno di attività, quelli che sono stati tutta una serie di esami, di controlli che APPA ha voluto garantire nel corso di quest'anno per rassicurare i cittadini. Dobbiamo partire innanzitutto da un dato di fatto, questo cementificio è stato realizzato ancora nel 1964, in questo momento il compito del mio assessorato, ma soprattutto di APPA, era quello di limitare le emissioni, cosa che c'è stata, e i dati presentati questa sera mi sento di dire che possono rassicurare i cittadini di questo territorio. Poi, quello che sarà in futuro, visto che il tema e la discussione questa sera è stata anche impostata per valutare, ma soprattutto per capire quale ruolo potrà avere nei prossimi anni questo cementificio, questo sarà un dibattito che nei prossimi anni ci dovrà essere all'interno di un territorio che sappiamo oggi essere attento alla qualità, alle eccellenze, in modo particolare per quanto riguarda il tema legato all'agricoltura. Il distretto biologico ne è sicuramente un esempio e quindi il lavoro che stiamo facendo è per verificare se c'è una compatibilità, anche nei prossimi anni, per la coesistenza di questo cementificio all'interno di questo territorio.